Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi come leggerete sicuramente dopo dal titolo video sui prodotti terminati nel mese di maggio è giunto il momento perché il contenitore è bello pieno però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale attivando la campanellina qua sotto e cliccando sul pulsante iscriviti così vi iscrivete al mio canale se ancora non lo fate dimollarci un bel like se vi piace questo video e se volete commentate e vi lascio anche il link diretto giù nell'info box per seguirmi su instagram allora se mi conoscete io parto dalle cose futili quelle che vi faccio vedere comunque quasi tutti i mesi per arrivare alle cose più succulenti novità che non ho mai provato su cui mi soffermo di più allora vi faccio vedere il contenitore c'è qualcosa anche fuori come vedete è bello pieno e partiamo subito allora io dico anche i prezzi poi c'è chi non li dice però vabbè io dico anche i prezzi terminata una confezione di cotton fioc abbiamo terminato una confezione di cotton fioc un euro primark io e mia mamma quella poi non iniziamo a far cadere niente Giulia terminato un dentifricio dell'angelica istituto erboristico questo era la cannella e menta piaciuto dai non era male la cannella non si sentiva tanto si sentiva più la menta questo è bio e questo non mi ricordo il prezzo penso sull'euro d'acqua e sapone di averlo preso poi 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 aspettate che vado a ok terminata la solita confezione di assorbenti di linea sidea ultra 7 con ali queste le vedrete tutti i mesi perché comunque sono 7 quindi uno al giorno faccio in fretta a terminarle uno o due al giorno quindi questo lo vedete tutti i mesi fino a che non finisco le scorte e questi 90 centesimi acqua e sapone poi terminata una confezione di dischetti questo giro del marchio Sien piaciuti erano quelli piccolini che io utilizzo per gli occhi e al limite per la bocca se sono truccata oggi non so niente perché come vedete ho cambiato anche location sono dal moroso e quindi non ho portato non ci ho pensato non ho portato il rossetto quindi mi vedete così un po' al naturale comunque veniamo a noi terminata appunto questa confezione di dischetti di Sien erano 140 ottimi non lasciano pelucchi non si sfaldano presi al Lidl a 95 centesimi poi breve ok terminati anche questi di cotoneve questi erano scrub avevano anche il lato strucco e il lato scrub erano 50 dischetti le avevo trovati in una box di my beauty box piaciuti anche questi non si sfaldavano il lato scrub non l'ho testato sinceramente però come lato struccaggio ottimo poi allora inizio a cancellare con la solita penna quella me la sono portata terminato un intimo questo della Dermomed con antibatterico della linea lichene senza parabeni DTA peg e siliconi ottimo 300 ml buono fresco non quanto il chili però bello fresco ottimo non ha creato irritazioni buono potrei anche di acquistarlo 88 centesimi da risparmio a casa poi ho terminato un deodorante abbiamo terminato un deodorante adesso vado a spiegarvi il perché di Nidra il deolatte fresh con proteine del latte e bioaloe invisib 48 ore 0% di sal di alluminio allora questo l'avevo iniziato io poi l'ha terminato mia mamma perché a me irritava le ascelle non mi è piaciuto terminato anche il DAV invece questo l'ho terminato io il go fresh alla pera e aloe con 0% di alcol e antitraspirante ottimo invece questo non mi crea irritazioni mi dura tutto il giorno non mi fa sudare non lascia aloni sulle magliette ottimo 1,50 euro entrambi d'acqua e sapone li avevo acquistati poi ho terminato la solita confezione perché è la terza quarta che vedete dello struccante occhi di geomar quello lenitivo ideale per occhi sensibili con bio fiori di altea con 95% di ingredienti di origine naturale ottimo strucca tutto non brucia gli occhi adatto agli occhi sensibili delicati che si arrossano ottimo io mi ci trovo benissimo questo senza parabeni siliconi coloranti oli minerali profumo e alcol davvero fantastico 3,90 euro d'acqua e sapone sono 150 ml io mi trovo benissimo e lo compro e lo ricompro arriviamo ai bagno schiuma bagno doccia e chi ne ha più le metta allora abbiamo terminato questo dei provenzali no scusate non dei provenzali dei tesori d'oriente della linea talasso therapy doccia crema aromatica questo è senza coloranti oli minerali e no silicone è una confezione piccola da 250 ml ha una profumazione di fresca però io ci sentivo una profumazione di dopo barba da uomo dopo barba appunto dopo barba cos'è da donna no da uomo comunque da dopo barba è una profumazione di dopo barba e quindi questa profumazione questa linea al tarassaco no al talasso scusate al talasso therapy non mi è piaciuto più di tanto invece il mio moroso gli è piaciuto tanto questa questa l'avevamo acquistata 1,25 euro in acqua sapone in straofferta poi terminato questo di Nivea questa è acqua il fresh mutis lampone mirtillo e latte di mandorla 300 ml con pastica riciclata profumazione dolcina sì era un bagno doccia in gel diciamo gel crema non mi ha fatto impazzire questo mi era regalato il mio moroso non mi ha fatto impazzire lo consiglio di più in estate magari quando si fanno tante docce così perché era rinfrescante quello è vero il profumo si sente annusandolo qua dalla confezione ma poi sul corpo non rimane quindi non sono i miei preferiti mi piacciono quelli che il profumo rimane anche sul sul corpo dopo aver fatto la doccia terminato anche questo dell'erboristica il bagno doccia addolcente all'olio di terminato questo bagno doccia addolcente dell'erboristica all'olio di mandorle dolci con 99% di ingredienti di origine naturale questo è senza oli minerali siliconi coloranti sless ok basta punto è testato al nickel cromo e cobalto è vegan ok niente completamente terminato buonissimo un bagno doccia dolce profumoso devo dire buono mi è piaciuto questo mi era stato regalato da mia mamma mi è piaciuto tanto peccato i 100 ml quindi ci fate pochi lavaggi se non usate abbondanti come me comunque buonissimo buono questo posso anche acquistarlo io buono buono davvero buono lasciava la pelle bella morbida idratata mi è piaciuto e infine abbiamo terminato questo di palmolive il So Relaxed Shower Gel fragranza avvolgente sono 250 ml abbiamo terminato perché l'ho terminato qua dal mio ragazzo ce l'avevano dato in omaggio d'acqua e sapone con l'acquisto di due palmolive avevamo acquistato il palmolive Invescrab che avete visto una volta e l'altro quello rosa e quindi ce l'hanno dato in omaggio questo qua è buonissimo questo qua con il tappo violetto è ottimo a me è piaciuto ha questa profumazione di fiori di lavanda di pulito di coccola di spa ottimo poi vabbè terminato un colluttorio dell'oral B piaciuto questo qua flu isene con il toro al fluo piaciuto niente di che 2,50 euro acqua e sapone messo in uso ho buttato la confezioncina di questo omia botanica sapone solito nutriente con 97,9% di ingredienti di origine naturale madre in Italy è una formula vegana eco pack all'olio d'oliva e gelsomino questo era dentro sempre in una beauty box ottimo ha un profumo buonissimo di gelsomino buono in questo sapone la va bene mi è piaciuto lascia la pelle bella morbida un buon profumo buono mi sta piacendo butto la confezione così non ce l'ho in giro ce l'avevo fatta vedere appunto acquistate e era dentro in una beauty box terminata una schiuma depilatoria io l'ho utilizzata come schiuma depilatoria però è così della Gillette la stain care holly violet swir shower gel c'è scritto vabbè questa qua acquistata su un ottino a 3 euro e 90 buona rasava bene l'unica pecca che si è un po' rotto questo quindi usciva un po' alla cavolo di cane però mi è piaciuta lasciava le gambe belle morbide l'effetto rasatura era ottimo buona potrei anche riacquistarla poi arriviamo le cose un po' più succulenti ho terminato lo scrub dei provenzali alla rosa moschetta è testato su pelli sensibili esfoliante non è certificato sugli animali è certificato made in Italy 100% vegano ha 98,71 di ingredienti certificabile e biologico e no è testato per i metalli pesanti se volete saperlo sono 75 ml completamente terminato era ve l'avevo fatto vedere anche nei top e flop se non mi ricordo male è uno scrub in crema con dei bei microgranuli e sfoglia bene non vi irrita la pelle è davvero adatto a pelli sensibile non vi fa arrossare la pelle è ottimo posso anche riacquistarlo potrei anche riacquistarlo l'avevo acquistato 4,65 euro sul sito biobotica la rosa canina ma potete trovarlo un po' dappertutto comunque ottimo profumazione dolcina scrubba bene mi è piaciuto il suo lavoro fa il suo lavoro ecco scrubba bene però allo stesso tempo è sensibile non va a graffiarvi la pelle comunque irritarvela ottimo poi 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 vabbè ho terminato questa crema collo e decolletè effetto lifting con derivati della storia è stato di alga miele e olio di jojoba di bottega verde appunto 50 ml lì era stata regata mia mamma non la usava l'ho terminata io un po' sul collo un po' sul decolletè idratante effetto lifting non l'ho visto più di tanto carina come crema ma non penso di acquistarla terminati due scrub corpo visti nei top e flop poi ho terminato il fratellino di quello che ho terminato due mesetti fa circa di verissimo il citrus blend della linea citrus blend questa volta questo è senza sls e selez e parabeni questo era all'olio di arancia olio di menta e grass grass fruit non so vabbè sali 400 grammi non è testato sugli animali buono sapeva di ghiacciolo all'arancia barra al limone questo a differenza del suo fratellino era meno compatto si scioglieva di più a contatto con l'acqua cioè a pelle scusate umida scrabbava bene ottimo questo davvero ottimo l'altro suo fratellino questo era dentro giallo se non mi ricordo male l'altro era verde mi è piaciuto il punto di più questo giallo perché era meno compatto meno duro ecco da andare a prelevare e utilizzare sul corpo questo si lasciava più prelevare e più spalmare sul corpo mi è piaciuto di più questo 5 euro e 32 sul sito di make up amato stra amato questo di scrub che è un peeling un peeling suoling all'olio di cocco 400 grammi anche questo completamente da maglina terminato profumazione di cocco un po' finta ma buona scrabbava benissimo lasciava la pelle scrabbata tantissimo e senza però andarla a irritare la pelle e lasciava un effetto punto passatemi il termine contenendo tanto olio di cocco quindi la pelle risultava anche idratata ottimo questo voglio riacquistarlo preso sempre sul sito make up punto it a 6 euro e 07 quindi non costa tantissimo davvero fantastico questo ok questo questo terminato un profumo di tesori d'oriente questo all'olio di argan e fiori d'arancio della linea hamam buonissimo mi piace sarà la seconda terza confezione che termino buono un buon profumo di argan rimane a meno a me rimane si sente per ore sul corpo buono 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 2 euro 99 acqua e sapone in offerta ho terminato la seconda confezione di sali drenanti dell'estitista cinica della linea slim mi mi piacciono sono un chilo di sali drenanti acquistati appunto sul sito dell'estitista cinica a 20 euro li potete trovare hanno hanno questa profumazione di eucalipto mentolata di di spadi di oli essenziali pazzesca ha un effetto freddo sul corpo cioè nella vasca vi fa un effetto freddo perché appunto avendo all'interno tutti questi oli buonissimi va proprio a liberare anche le vie respiratorie e dovete metterle nell'acqua all'incirca 250 grammi o se no mezzo varato lo dipende un po' come volete usarlo voi ottimi perché poi vi fanno drenare anche la torta a cioccolato ecco ottimi io li ho appunto ricomprati perché mi sono trovata davvero bene ma si saranno i soliti sali drenanti invece questi fanno veramente drenare e poi hanno questo profumo che deve piacervi di montagna di erbe comunque di oli davvero buono cioè almeno a me piace passiamo alle maschere terminate allora non ne ho terminate tantissime questi qua sono le bottine di questo di questo mese vabbè ho terminato la maschera contorno occhi dei faticanti al fior d'aliso centella di bottega verde piaciuti abbastanza di faticanti hanno tolto leggermente le occhiaie carini potrei anche riacquistarli questi avevo 4 euro e 49 scontati se no 7 euro e 99 a prezzo pieno io vi consiglio di prendere tutto sempre scontato si può poi ho finito ho usato e terminato questi strip donati per punti neri libere dei punti neri al carbone vegetali e kiwi purifica minimizza i poli pelle impure erano due strip come vedete qua raffigurati fatti proprio così è vero tolgono abbastanza i punti neri mi sono piaciute potrei riacquistarli anche questi questi invece 4 e 99 al posto di 4 e 49 anche questi a prezzo pieno li trovate a 7 euro e 99 carini potrei anche riacquistarli appunto poi ho terminato pulisco perché tutti i pezzettini dello scrub al cocco vabbè questa maschera rassodante di florena viso naturale con caprifoglio fermentato e acido neuronico e certificato ICA buona mi è piaciuta come la sua sorellina quella rosa sono delle maschere idratanti e rassodanti ottimo mi piacciono hanno un'attrofazione delicata buona mi piacciono queste maschere costicchiano un po' era dentro di una beauty box però mi piace potrei anche farci un pensiero e acquistarle io poi ho terminato questa maschera di Apieu al milk al latte mi è piaciuto tessuto ottimo questo qua era il tessuto che ve l'ho tenuto bello imbebito è ancora imbebito l'ho fatta circa due settimane fa se non ricordo male due o tre settimane fa è ancora bella bagnata questo è il tessuto bello morbido giusto per il mio viso devo dire non andava a staccarsi ottima mi è davvero piaciuta questa mi era stata omaggiata perché tipo se vi iscrivevate alla newsletter non mi ricordo più come funzionava vi arrivavano a casa tre maschere due le ho già usate una non ancora la vedrete prossimamente perché è purificante l'ultima che mi era stata mandata e quindi non l'ho ancora utilizzata terminate due cannelline una questa qua ai fiori di cotone carina niente di che e una piccolina di avermi trovata appunto che questa è una beauty box d'altronde questa era Paris France così ad all'usara così buona ha un profumo di pulito di cotone di fiori di cotone ecco tipo un po' l'altra buono di fresco di pulito accesa non sa di niente non so se sono perché è piccolina o che cosa ma non mi sono piaciute dicono che quelle grandi durano profumano tutta la stanza eccetera eccetera ma questa piccolina non doveva durare quattro ore mi sembra sì quattro ore io non ho sentito un gran che di profumo quindi non mi è piaciuta passiamo ai campioncini che sono proprio due 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 questo mese ho terminato il profumo di Valentina voce viva di Valentina di Valentino scusate voce viva questo qua buonissimo l'ho fissato anche in funsail perché mi è piaciuta tantissimo poi di sci ho terminato questo rinnovamento accelerato rughe riempite con una crema comunque per le rughe non mi è dispiaciuta carina abbastanza buona e poi la mia parrucchiera mi ha dato questi campioncini di Zeros si Zeros e c'è dentro vi faccio vedere la maschera e adesso vado a prendervi lo shampoo c'è scritto prima dopo no cos'è prima dopo durante idrata nutre e protegge è della marca MB Italia vabbè comunque mi ha dato la mia parrucchiera per far mantenere il colore che avevo viola mi hanno mantenuto mi è piaciuto mi sono piaciuti come prodottini ne ho altri carini come campioncini da provare niente questi qua sono stati tutti i miei prodotti terminati di questo mese fatemi sapere giù con un commento voi cosa avete trovato cosa avete terminato io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo un prossimo video ciao a tutti qui